Giangiulio, adesso un attimo, ok, è il suo primo giorno di lavoro ragazzi, cercate di capirlo, ok, vedete ci ha messo una Ma, gli ha tirato due pacche, ha smesso di picchiarlo, Giangiulio, perché ti vede, quindi gli tira i pugni a rate, ok, visto mi sono nascosto, vai il capo non c'è Sì però dovrebbe essere il contrario, quando c'è il capo lavori, quando non c'è più il capo smetti, lui funziona al contrario ragazzi